Una breve pausa interrompe nel pomeriggio l'incontro voluto dal sindaco Luigi De Magistris con gli assessori comunali alla mostra d'oltremare per fare il punto sul lavoro svolto e quello ancora da fare. È stata una mattinata molto importante, abbiamo cominciato presto, un dibattito serrato, approfondito, costruttivo. Certe volte nel tourbillon della vita quotidiana dell'amministrazione non si riesce a dialogare in modo approfondito, a confrontarsi per ore. Invece adesso è un confronto che dura ore sui problemi della città, sulle prospettive, sulle questioni principali, sulla politica, sui rapporti con le altre istituzioni, a cominciare da regione e governo, quello di poter comunicare al meglio ai nostri concittadini tutto quello che stiamo facendo, il grande lavoro, i problemi, le difficoltà, le prospettive. Quindi esce una giunta più forte, più coesa, con le idee molto chiare su come impostare questo mese di settembre con la città e con i napoletani. Ci sta un'analisi molto approfondita che illustreremo nei dettagli lunedì.